Il grande fratello per me è un pezzo di cuore, è un giro del mondo attorno a se stessi. Ho realmente capito quello che io voglio fare nella verità. Penso di aver fatto l'esperienza più bella della mia vita qui. L'amore per questo programma è fondamentalmente l'amore per se stessi, per questo programma lo vivi con te stesso. L'amore per questo programma è fondamentalmente l'amore per se stessi. L'amore per questo programma è fondamentalmente l'amore per se stessi. L'amore per questo programma è fondamentalmente l'amore per se stessi. L'amore per questo programma è fondamentale.